Musica Appuntamento alla rassegna stampa, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, buon inizio settimana, oggi è lunedì 18 settembre e tra poco leggeremo i giornali come facciamo tutte le mattine. Allora partiamo dal santo di oggi, oggi è San Giuseppe da Copertino, nato a Copertino nel Salento nel 1603, sacerdote, il sole è sorto alle 6.49, tramontarà alle 19.16. Il tempo, questa sera in serata avremo un cambiamento del tempo, tornerà la pioggia, deboli rovescio temporali sparsi inizialmente da nord, poi si espanderà per tutto il resto della regione. Martedì, domani, ancora cattivo tempo con rovescio temporale diffusi più insistenti nei settori centrali della regione nelle prime ore della nottata, i fenomeni saranno in progressivo esaurimento a fine mattinata, stiamo parlando di domani. E poi mercoledì ancora pioggia con la mattinata fino al pomeriggio con rovesci lungo e temporali lungo la fascia costiera e la prima collina. Le temperature sono in diminuzione, miglioramento del tempo dalle giornate di venerdì e sabato con possibile peggioramento però nella giornata di domenica. Allora, andiamo a vedere adesso i giornali, la prima pagina del resto del Carlino è per le moto. Benelli nel cuore, si chiude con un bagno di folla la settimana dedicata alla casa del Leoncino. Applausi affenati sulla moto di Sarinen e presente anche il fratello di Jarno. Mentre sopra telecamere fuori uso da giorni e la piazza preferita del Branco è stato rubato sabato sera un altro scooter in piazzale Matteotti a Pesero. L'area è a grave rischio come la zona della stazione o del monumento alla resistenza. Sotto osservazione della polizia una vera baby gang e poi si parla di sport. Naturalmente oggi è lunedì con tante pagine, inserti sportivi. Domenica d'applausi per la Vispesero che è stata definita dal giornale Titanica. Vince ancora a San Marino a 1-0 e resta sola in vetta. Mentre sotto si parla anche della dunata, max adunata, la ex caserma Paolini. Ma è solo una marcorda e poi da Cagli in marcia sul Petrano, dateci il parco. E una ditta israeliana invece alla ricerca delle perdite dell'acquedotto scoperte tramite un satellite. Ma entriamo nelle pagine interne. Andiamo a vedere subito questa adunata che c'è stata ieri nel fine settimana alla caserma Paolini di Fano. Suona la dunata per i commilitoni. Che emozione ritrovarsi qui a 17 anni dalla chiusura. L'ex caserma Paolini ritrova i suoi militari. E poi, sempre dal resto del Carlino, addio a Mimo, Mino Bei, capitano Vissino. Un decennio in bianco-rosso, mercoledì a Loreto, i funerari. Aveva 69 anni, Massimo Bei, detto Mino, molto noto in città, a Pesaro, ma soprattutto agli sportivi. Avendo giocato per oltre 10 anni nel Vispeso, il funerario si terrà mercoledì 20 settembre alle ore 10 nella chiesa di Loreto. Andiamo sull'altra pagina, quella del Carlino, dove a Cagli c'è il cammino per il parco. Ma ci sono anche polemiche per la concomitanza tra le passeggiate di fine estate e della Proloco. Si parla di due eventi che sono stati organizzati praticamente nello stesso giorno e che dunque hanno creato qualche piccola polemica, perché qualcuno che voleva farle tutte e due si è ritrovato nel dover decidere quale delle due camminate fare. Poi, nelle pagine del Corriere Adriatico, invece, in primo piano il turismo. Turismo calo contenuto, passata la paura del sisma, in provincia meno presenze per il 3%, ma recuperato il crollo di primavera. Il Fano va in vantaggio, parliamo di sport, ma poi vince la Feralpi per 2-1. La Vissi, invece, spugna il San Marino prima in classifica da sola. I biancorossi esultano grazie ad un gol di Baldazzi. Terza vittoria consecutiva, 0-1. La presenza, dicevamo, turistiche, qui siamo nella pagina interna, in primo piano del Corriere Adriatico. Le presenze leggero calo, passata la paura del terremoto, recuperato l'handicap di primavera, meno 3%, paesi colpiti sono Urbino e i Borghi. A Pesaro trainano il ROF e soprattutto i mondiali di ginnastica. La Benelli, la Benelli rugisce ancora con Fenati, il talento della Moto3 ha cavalcato il leoncino di Sarinen dalla panoramica al mare dove lo attendeva la sua onda. Con lui in fila centinaia di centauri, spero di aver omaggiato, dice lui, al meglio della storia. Mi sono divertito come un nonnino. L'elisoccorso da Fossombrone, elisoccorso alla regione dice no, interrogazione dei 5 Stelle sullo scalo di Fossombrone, abilitato al volo notturno. La risposta della vicepresidente Casini che dice, servizio stipulabile solo ad ottobre, da ottobre 2018. Urbino, ritagli del notiziario e ingiurie. Voi come i tagliagoli dell'Isis, buste anonime e intimidatori e recapitate all'assessore Romani e al consigliere Iassine. Il giornale che è stato usato con questi ritagli è filo diretto del mese di luglio, inerente a Popolo in Festa, evento dedicato al rispetto e alla convivenza. La pagina di Fanno, l'alza bandiera della nostalgia per 60 ex reclute in 300, si ritrovano alla Paolini. Cecchini dice riproporremo l'evento e questa è la foto di gruppo che pubblica il giornale di questa mattina. Sull'altra pagina di Fanno del Corriere, farmacie comunali aperte per 12 ore e metano fornito in tutto il territorio. Il presidente di Aset annuncia i lavori di bonifica dell'acquedotto, le perdite ridotte dal 40 al 29% per Reginelli. Di Aset gli scolmatori garantiranno la balneazione e il deflusso delle piogge. Dalla Valle del Cesano invece la brutta notizia che arriva dopo l'incidente, ricorderete, dell'ambulanza che si è schiantata nei giorni scorsi. Purtroppo è morto il paziente che era trasportato al suo interno, si tratta di Nello Tonelli, 77 anni di pergola, aveva fratturato il femore. La moglie dice adesso io voglio tutta la verità. Ex idraudico, lascia anche una figlia che era molto conosciuta a Pantana. Notizia shock, tra l'altro non si riteneva grave. Giovedì aveva avuto con questa ambulanza della Croce Rossa e un tir sulla Pergolese questo scontro. Il paziente è stato trasportato e ricoverato per le conseguenze a San Salvatore di Pesaro. Non era considerato in pericolo di vita, perciò dunque la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine, insomma, a ciel sereno. E questa è la notizia che riporta il Corriere Adriatico di oggi in edicola. Da Senigallia invece il problema della prostituzione in strada, l'esquillo, l'asquillo anzi, si esibisce al distributore. Protestano residenti e automobilisti. Pur di guadagnare si infila nelle macchine, pensate che fanno rifornimento a ridosso del centro storico. Uno va lì per fare un po' di benzina e si ritrova l'asquillo dentro la macchina. Poi dopo lì, chiaramente, tutto viene messo a dura prova. Da Cesanella al Cernin, dalle Saline a Marzocca, la scena si ripete per strada. E questa è la notizia da Senigallia. Come dalle pagine interne di Senigallia c'è ancora cronaca, un ubriaco che piomba su due automobili. Prima tampona una macchina, poi si schianta contro un'altra parcheggiata. L'uomo è stato denunciato, i vigili hanno provveduto a ritirargli la patente. È successo poco prima delle 22 di sabato, lungo la stradale adriatica sud di Marzocca. E alla guida c'era un 54enne di Santa Maria Nuova, che però nel sangue aveva un po' di alcol di troppo. Poi da Ascoli Piceno, la notizia che ha avuto un risvolto anche sul nazionale, l'uccisione di questa donna da parte di un 39enne, del nipote 39enne con problemi psichici. Il titolo dal Corriere di oggi di Ascoli, zia Irma, l'ho uccisa io. Me l'ha detto Santa Rita, interrogato nella notte Virgilio Cataldi, che poi ha ammesso l'omicidio della Giorgi, della zia, dopo ore di silenzio assoluto. Questo 39enne ha problemi psichici, l'ha colpita al collo con un coltello da cucina nella casa di Fonte di Campo. Ed ha appunto, come dicevamo, ammesso. Abbiamo detto tutto per quanto riguarda la cronaca, chiudiamo con due pagine dedicate allo sport. Velocemente il Fano, il titolo è è un buon Fano, ma torna a mani vuote. Germinale firma il vantaggio, il Feralpi non si lascia sorprendere e va a vincere. Dunque Feralpi salò 2, Fano 1. Fino agli sgoccioli della partita e Granata cercano il pari senza però riuscire a spuntarla. Mentre l'altra pagina dal resto del Carlino è per la Serie D, la terza giornata che ha visto il successo a San Marino del Vispesero. San Marino 0, Vispesero 1, Baldazzi gol, Tris di vittorie e la Vis vola. È tutto, grazie per aver seguito la vostra segna stampa. Vi ricordo questa sera il telegiornale e il 338 4968 250 per le vostre segnalazioni. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.